Diretto verso di voi, è meglio se vi spostate. Contatto! Un nemico in discesa nell'area... Andiamo, andiamo. ...autorizzato su tutti i versetti. Contatto, contatto! Tiro, una granata. Mi hanno colpito, mi hanno colpito! Contatto! Si dorme sul lavoro. Lo sopportengo! Mi hanno colpito, mi hanno colpito! Ah, levante l'amico! Ah, fan poco! Un bersaglio ostile! Contatto, nemico in attimo! Vado all'attacco! E quant'è ancora un... ...cora di attimo! Lo vivavo io! Marco, una stazione... Marco, una stazione... Mi hanno colpito! Stai perdendo terreno! Mi hanno colpito! Neutralizzato! Marco, una stazione medica! Marco, una stazione medica! ... Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Gassi in movimento Nuova zona sicura e individuata Soldato nemico in arrivo Versaglio a te Versaglio a te Versaglio a te Versaglio a te Guapì nemico in volo Versaglio a te Supurrei Abora Arriva il gas! Indico un elicottero. Siamo nella zona sicura. Occhio ai nemici. Mi servono colpi di medio calibro. 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 Mi hanno colpito! Un team nemico vi dà la caccia. Ora, occhi aperti! Mi servono colpi di medio calibro. Abbattuto! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Manca ancora qualcuno! Adunata nella zona sicura! Nemici nell'area! Guardate quello che ho detto! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Mi hanno colpito! Gas in arrivo! Zona sicura riposizionata! Sei l'ultimo del tuo team! Completo in arrivo! Ostile in discesa dell'aria! Occhio in alto! Vedo la stazione medica. Lancia una stordente! Lancia una stordente! Gas in arrivo! È molta strada da fare! È in marcia! Non ci sono! Ci servono colpi di medio calibro! Gassi in arrivo, nuova zona scuola scuola scuola. Lancia una stardenne. Puoi essere segnata? Non da fare, è la madre. È il fulpo nelle tue mani! Mi sono appassi anche per mettere il fulento! Sei un fulpo! cazzo in arrivo, zona sicura riposizionata arriva i cazzo cazzo in arrivo, amici dell'area stavolta abbiamo Grazie a tutti.